Dove si nasconde Topolino tra le illustrazioni di Lorcana? Quali saranno gli elementi che ne celeranno la presenza? E sarà facile individuarlo tra le carte della vostra raccolta? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. L'Orcana ha registrato vendite da record ed in pochissimo tempo ovunque c'è stata carenza di materiale che ha portato questo TCG ad uno stallo provvisorio in vista del secondo set in uscita nei prossimi mesi. Ma per chi invece è stato piuttosto lesto da accaparrarsi delle scorte completando, come per il sottoscritto, la versione regolare del primo capitolo, un ulteriore tesoro è riuscito a nascondersi tra le varie illustrazioni presenti sulle carte che mostrano indirettamente la sagoma del topo più famoso al mondo, icona simbolo del franchise americano. Quindi grazie all'aiuto dei signori di Disney e Lorcana Italia, link al profilo Instagram in descrizione, siamo riusciti ad individuare alcuni easter egg, 13 per la precisione, che raffigureranno il profilo di Topolino sparso qui e là nell'ambientazione dove l'eroe o il cattivo di turno verranno raffigurati. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme dove sarà possibile cogliere sulle carte di Lorcana la figura di Mickey Mouse. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo con i vari character versione regolare, dove Duco Wieselton ci darà il benvenuto. Alle spalle dell'opportunista, vicino a quello che sembra essere un portale di pietra, si potrà vedere distintamente il profilo di Topolino spuntare in basso a sinistra da dietro la soglia di pietra. Stesso ink, altro villain, dove alle spalle di Mother Godel sembra esservi un gruppo di macchioline bianche, tre per la precisione, che andranno a formare proprio l'icona di Mouse impresse sulla parete. Suppongo invece si potrà notare come sulla zampa anteriore destra compariranno delle macchie tipiche dei dalmata che richiameranno proprio all'immagine di Mickey. Mentre su Elsa, Snow Queen, si potrà osservare la livrea del topo riportata sull'ultima di copertina del tomo che la principessa di ghiaccio sarà intenta a leggere. E da proposito di quest'ultimo, non vi sembra che anche nella parte dorsale delle carte sia presente un rimando all'icona Disney? Per Jetsam invece non ci saranno dubbi, quelle bollicine richiameranno in pieno la mascotte numero uno del franchise. Anche in Sebastian, come per la Morena, le bollicine emesse dagli strumenti che dirigerà andranno a formare molti volti noti, addirittura tre, uno poco superiore la bacchetta del granchio, il secondo sopra la sua chela ed il terzo poco più a destra di quest'ultima. Chiuderà il reparto personaggi Robin Hood. Nella sua immagine, infatti, si potrà osservare la presenza di un topolino subito sopra il suo arco mimetizzato tra i rami, ed un secondo, ma non ci metterei la mano sul fuoco, in lontananza tra gli alberi. Anche gli item avranno dei rimandi propri, partendo dall'ursula cauldron che in basso a destra dell'artwork vedrà dei riferimenti, non molto chiari, ma che si avvicineranno all'immagine del topo assieme a diversi altri sparsi qui e là subito dietro l'oggetto, passando per il Coconut Basket, che riporterà nei tipici buchi delle noci di cocco la figura di topolino, fino a giungere all'azione Let It Go, dove nella tormenta scagliata da Elsa si potrà intravedere l'immagine di Maus in basso a sinistra, ma come per il calderone, di rimandi volendo addirittura casuali, anche in questo caso ce ne saranno quanti ne vorrete. Infine arriviamo all'Enchanted, dove l'onda che Domera Stitch vedrà il profilo in questione, direttamente riprodotto tra le spume del mare, e Belle, che come per Sebastian, vedrà in chiaro tre topolini disegnati rispettivamente sulle pergamene ai fianchi della principessa e sul tomo in primo piano. Ma non finisce qui, perché non solo l'immagine di Mickey Mouse verrà proposta agli appassionati, ma anche le icona degli inchiostri direttamente incise sulle vesti o nel mondo che circonderà i personaggi e molto altro ancora. Tratteremo tutto in un prossimo video. Prima di concludere, volevo ringraziare ancora una volta i signori di Disney l'Orcana Italia per aver contribuito attivamente alla realizzazione di questo video. Ancora una volta, la casa dei sogni ha deliziato i suoi fan, nascondendo qui e là dei piccoli camei del topo più famoso al mondo, accendendo la curiosità dei più che carta dopo carta analizzeranno al millimetro ogni pixel di stampa. E voi, conoscete altre carte dove poter osservare il profilo di topolino? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.